La Commissione europea ha rivisto a ribasso le previsioni sulla crescita economica dell'Italia, per cui si attendono anche peggioramenti delle voci chiave sui conti pubblici. L'Italia fatica ad uscire dalla bassa crescita stagnante, è l'eloquente titolo del paragrafo dedicato alla penisola nel rapporto sulle previsioni economiche d'autunno. L'economia italiana si legge nel rapporto, si è bloccata all'inizio del 2018 e non mostra ancora segni di una ripresa significativa. Nel 2020 la crescita è destinata a riprendersi modestamente a seguito della crescente domanda esterna e della moderata spesa delle famiglie, sebbene quest'ultima sarà parzialmente attenuata dall'indebolimento del mercato del lavoro. Tagliata la stima di crescita sul 2020 a più 0,4% del PIL, mentre nelle previsioni dello scorso luglio indicava un più 0,7%. L'esecutivo comunitario ha invece confermato il più 0,1% atteso sul 2019, mentre sul 2021 si attende un più 0,7% del PIL. Bruxelles prevede peggioramenti sia del deficit strutturale sia del debito pubblico in Italia nel prossimo anno. Il primo è atteso al 2,5% del PIL. Il debito PIL invece dal 134,8% del 2018 è atteso in crescita al 136,2% quest'anno, al 136,8% nel 2020 e al 137,4% nel 2021. Infine la Commissione europea ha sottolineato che la spesa pubblica in Italia è attesa in aumento a seguito dell'introduzione del reddito di cittadinanza e di quota 100 sulle pensioni.